Ciao bambini, buongiorno, bentornati alle favole di Pat! Io sono Pat, te non puoi dire Pat! No, e allora dico solo, bentornati alle favole di Pat! Capricciosa sta Pat, questi giorni sei stata capricciosa! Balla Pat, è il tuo momento! Pat, sei sempre la più bella! Quindi te sei molto brutta! Eh grazie, è sempre gentile sta Pat con me, io invece trovo che tu sia molto carina! Grazie! Si è visto il tuo fidanzato Pat? Sì! Come va con lui, tutto bene? No! Cosa succede, è capriccioso per caso... Mi ha rotto il bicchiere e la tazza da te! Accidenti! Dovremmo fartene comprare un'altra dal tuo fidanzato! Mi vuole dare... Ma non mi mangia, aiuto! A proposito di aiuto, vi ricordate che favola avevamo cominciato a leggere? Eh, un rinofante sul tetto, ma stavo per dire un'altra favola che leggeremo a breve! Che quella è una sorpresa, è una sorpresa! Ne parleremo dopo! No, all'orecchio! All'orecchio, mio o loro? Oddio, che confusione sta... Mi prude pure, mi gratta, mi prude, mi cosa... Ah, Pat! Buona Pat, dobbiamo riprendere con la seconda parte di... C'è un rinofante sul tetto! Ho detto un rinofante! Se ben vi ricordate, avevamo trovato per ultima la dragoraffa blu, che era... Dov'era la dragoraffa blu? Dentro l'armadio... Ma adesso Daniel... Siete pronti? Daniel vuole dormire, ma appena chiude gli occhi, vede qualcosa di strano che spunta da sotto il letto, si avvicina piano piano alla sponda per sbirciare e lì, nel buio, si nasconde un'orrenda creatura dal corpo peloso a Pat! Ammazza, ma è un robot! Nonna! Ah, grida Daniel, c'è qualcosa sotto il mio letto! Cosa può essere mai, Daniel? Chiede la nonna. Una creatura pericolosa, nonna! Potrebbe essere un... Cervorilla! Si inventa tutto lui! Un... Cervorilla, dice la nonna. Non preoccuparti, i cervorilla non sono pericolosi, come sembra. Vediamo se possiamo diventare amici. La nonna e Daniel si avvicinano lentamente al cervorilla, facendo attenzione a non spaventarlo. E quando Daniel trova il coraggio di accarecciarlo, scopre che è morbido. Quindi sono io! No! È morbido e caldo, come... Il suo vecchio orsacchiotto! Ora puoi dormire tranquillo, dice la nonna. Il cervorilla ti proteggerà. Questa volta ho avuto paura, dice Daniel. Ma sei comunque riuscito a fare amicizia con il cervorilla, dice la nonna. Sei stato davvero molto coraggioso, Daniel. Quindi sono stata coraggiosa anch'io. Sei patta, sì, coraggiosissima. Dopo tutte quelle imprese, Daniel è stanco. Ma un attimo prima di addormentarsi, sente qualcosa sul letto. Una bestia enorme, sdraiata sulle sue gambe. Quindi sono io! Si copre gli occhi per non vedere. Ha troppa paura per alzarsi. Troppa paura anche per respirare. Non è un rinofante, è un leone. Nonno! Nonna! Grida Daniel. Sento qualcosa sulle gambe. Ma che cosa senti, Daniel? Che cosa sarà mai? Dice la nonna. Una belva che respira. Deve essere un leone vero. Un leone vero, dice il nonno. Adesso sì che devi avere coraggio. Fai un bel respiro, dice la nonna. E tirati su, piano, piano. Daniel fa un bel respiro. E poi, piano, 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 si tira su. Ah, ah, la cosa sdraiata sulle sue gambe. È il grosso gatto della nonna. Guardate un po'. È solo il grosso gatto. Quello che era all'inizio della favola e ti ho chiesto. Brava, Pat. Che gran paura ho avuto stavolta, ride Daniel. Hai spaventato anche noi. Ridono anche il nonno e la nonna. Buonanotte, mio valoroso soldato, dice il nonno. Buonanotte, mio topolino coraggioso, dice la nonna. Buonanotte, nonno. Buonanotte, nonna. Finalmente, Daniel può dormire. Perché come si fa ad avere paura di un rinofante? O di un coccopotamo? O di una dragoraffa blu? In fondo aveva un cervorilla che lo proteggeva. E un gatto vero a scaldargli le gambe. C'è un rinofante sul tetto. Ma quanto ci è piaciuto questo libro! Beh, sapete, bambini, io anche devo dire che sono molto fortunata. Perché anch'io ho una patto raffa qui che mi fa le coccole e mi protegge durante la notte. Vero, dolce Pat? Sì! Bimbi, adesso però vi vogliamo dire che a brevissimo io e Pat... No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Mi posso presentare prima? Oh, speravo di averla scampata oggi. Sì, Pat, non vedevamo l'ora che tu ti presentassi. Vieni, tesoro. Ecco, Pat Francesco. Volevo dirvi una cosa prima. Ai, 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 perché ho paura. Proprio brevissimo faremo un altro video. La storia del soldato. Ah, no, bravo, sì. Un altro video con una favola, tipo, no, non è, sì, una favola basata sulla festa del papà. Esatto, a brevissimo faremo una diretta su Instagram, dall'Instagram delle Patrizie, Associazione Culturale Le Patrizie. APS. APS, Associazione di Promozione Sociale, per leggere una favola, io e Pat Francesco, che ha come tema la festa del papà. Quindi una favola per tutti quanti i papà, auguri papà! Ma anche per le mamme, no? Ma certo, certo, anche per le mamme! Ma c'è anche su Facebook sta cosa? Oddio, social lui di me, chiederemo a... Paolo Brozzi, ciao! Che c'entra Paolo, salutiamo Paolo, ciao Paolo! Ciao a tutti bimbi, vi aspettiamo anche per ascoltare la favola sulla festa del papà. Ciao, alla prossima!